E' con piacere che oggi celebriamo insieme a te i primi 40 anni della storia Clay Paki. Grazie per la visione! 40 anni di Clay Paki. Festeggiamo il futuro! Grazie a tutti! Benvenuto nell'universo Clay Paki. E ora, dimentica per qualche minuto ogni pensiero. Mettiti comodo e vivi questo viaggio insieme a noi. La musica si dilata nel silenzio. Una luce armoniosa si diffonde nell'oscurità della scena. In un gioco di perfette simmetrie, anche la luce modula le sue note. Equilibrate intensità, morbide tonalità, vividi colori, il bianco perfetto, precise diffusioni, forme fantasiose. Ascolta, questo è Sinius, il suono armonioso della luce. La musica si dilata nel silenzio. Per me è un'accompanione. E' un'accompanione. E' un'accompanione. Per me è un'accompanione. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Il colore è emozione Lascia che la luce di Epicos ti avvolga È morbida e i suoi infiniti colori esprimono emozioni che le parole non sanno raccontare Lascia che la sua forza si sprigioni Che i suoi fasci di luce diventino improvvisamente densi e brillanti E taglino l'aria come lame caricandola di vivida eccitazione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti